Schizzi, disegni, pennellate d'istinto che scorrono freneticamente sulla tela. Leonardo Pappone espone fino al 15 giugno alla Sala Artes di Campobasso i suoi ultimi lavori nella mostra I Segni Innocenti. La rassegna, curata da Silvia Valente, esprime la passione dell'artista per le opere contemporanee. Una passione sbocciata oltre 30 anni fa. All'arte mi sono avvicinato in giovane età e poi ho ripreso un po', avendo un po' di tempo prima della laurea. Avevamo un po' di tempo con degli amici pure al paese, quindi partecipavamo a qualche mostra estemporanea, a quei concorsi che si facevano nei paesi dimitrofi. E quindi era un modo di evasione, un modo anche di mettere su qualcosa che ci piaceva. Poi per tanti anni è stato un completo oblio, nel senso che non ho avuto né forse io il tempo di riavvicinarmi all'arte e né la sensibilità di riprenderla. Cosa invece che dall'anno scorso è venuta fuori in maniera quasi imperativa. insomma è un ripreso a dipingere, a pasticciare qualcosa e questo che oggi vedete qua è qualcosa che ho realizzato in questi ultimi anni. Pappone consegna alla pittura il passepartout dei suoi pensieri. Nelle sue opere segni, forme e colori si intrecciano diventando strumenti di innocenza e libertà. Cerco molto il cromatismo e mi piace molto poter accostare certi colori e poi dai colori stessi trarne dell'immagine o delle sensazioni oppure dare uno scenario di qualcosa.